Nella pace del mondo, preghiamo, ascolti e lasciati il suo nome. A Gesù vogliamo affidare tutte le nostre famiglie, noi che siamo qui. Fidiamo le nostre preghiere, i bambini ci insegnano a pregare, noi da grandi diventiamo più complicati, facciamo preghiere più complicati. I bambini ci insegnano che basta una parolina, chiediamo di appena i grandi. Possiamo diventare un po' matrimoni davanti a Gesù, più semplici. Perché lui è il padre, come siamo i figli, lui è il padre e i ricetti. Con questo spirito, davanti a Gesù, offrendo il nostro oro, il nostro senso, il nostro sabino, offrendo quello che stiamo amando a Gesù, offrendo le difficoltà che sono anche in mezzo a noi, che non sono poche, diciamo. Padre nostro, che sei in Cielo, sia santificato il tuo nome, perché il tuo nome sia fatta la tua volontà, come il Cielo e il tuo nome. Padre nostro, che sei in Cielo e il tuo nome, e vieni in un agro, tanque il tuo aggelo, o mò bambino mio divino, io ti veno qui a tremar, O Dio peato, hai fatto tipo sto, la vera mia mano. O Dio peato, hai fatto tipo sto, la vera mia mano. O Dio peato, hai fatto tipo sto, la vera mia mano.